Buonasera a tutti amici di Domi Digital, oggi arriviamo su questo canale con una novità pazzesca allora l'intenzione è condividere con voi un'altra passione che occupa le mie giornate e uno dei miei più grandi hobby ed è quello degli acquari sono circa 20-25 anni, sono all'interno degli acquari ho avuto una storia di acquari di tutti i tipi come dal dolce e negli ultimi 5 anni sono passato a un acquario marino partendo principalmente da un nano reef poi dal nano reef la cosa nasce cosa ho cominciato a mettere coralli, i coralli cominciano a crescere si è cominciato a espandere la vita all'interno del mio acquario e da un anno circa sono passato a un acquario di 200 litri organizzato berlinese con all'interno Samp, cosa che non avevo prima quindi dall'esperienza iniziale ho cominciato pian piano a crescere e oggi sono circa un anno di vita del mio acquario marino che ha finito da qualche mese ormai la maturazione ho trasferito praticamente tutto quello che avevo di vivo i miei LPS, i miei due pesci pagliaccio e li ho messi nel nuovo acquario con nuovi coralli eccetera allora tutto è molto all'inizio non mi reputo un esperto ma mi reputo un grandissimo appassionato e dato che su questo canale è il luogo, la mia vetrina dove praticamente io posso condividere con il mondo le mie passioni ho deciso di inaugurare questa da oggi praticamente questo nuovo playlist che chiamerò Reef dove praticamente metterò saltuariamente le mie esperienze e magari condividerò con voi dei pensieri, delle analisi, degli acquisti magari quando ho dei problemi sul mio acquario o come li affronto di come mi appoggio sulla community i prodotti che utilizzo, i materiali che utilizzo, dove acquisto le cose diciamo che è un modo per condividere una passione che si regge tantissimo sui negozianti che sono esperti che sono in giro devo dire che io mi trovo in una zona nel Bresciano dove ci sono vari negozianti che comunque sia veramente ce ne sono una vasta scelta cosa che purtroppo vivendo anche in passato in altri luoghi purtroppo non si può dire con tutti purtroppo c'è anche tanta inesperienza e quindi praticamente secondo me questo hobby si regge prima di tutto sull'oro che sono sul territorio e poi dopo sui blog, sulle community online eccetera dove praticamente si può leggere, si può studiare veramente c'è di tutto secondo me leggendo in questa materia non esistono leggi certe, teorie certe su ogni minimo argomento c'è sicuramente sempre un dibattito c'è il dibattito e pensieri e vedute diverse tra i più esperti io mi reputo un appassionato quindi prendete sempre con le pinze ciò che vi dirò scrivetemi nei commenti i vostri pensieri il vostro approccio scrivetemi sempre nei commenti quello che voi, come approcciate e la vostra veduta perché tanto io non me la prendo perché so perfettamente di essere appassionato e di poter sbagliare e so perfettamente che questo hobby è talmente vasto è tratta talmente tante di quelle idee e metodologie che la strada giusta è difficile da trovare ma ci sono veramente tanti pensieri da cui poter prendere spunto quindi condividete qui sotto e scrivete e quindi questo video è semplicemente di presentazione di questo mio nuovo progetto e a breve arriveranno vari video come dicevo all'inizio salto a neamente e spero di trovare tra di voi altri appassionati con cui condividere questa mia passione e niente ragazzi quindi io vi ringrazio fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate fatemi sapere se magari qualcuno di voi che già mi segue che mi segue per motivi del calcio giochi calcistici eccetera fatemi sapere se qualcuno di voi condivide la mia stessa passione e io vi ricordo se non l'avete fatto state guardando questo video e non mi conoscete iscrivetevi al canale lasciate un like per sostenere questa pagina questo progetto e tanti altri progetti che arriveranno in futuro quindi grazie mille a tutti buona serata da Tommy Digital grazie mille a tutti